Ciao ragazzi, a partire dalla settimana prossima riporterò sul canale i vlog che nelle ultime settimane avevo lasciato un po' da parte, soprattutto perché a livello tecnico ci saranno dei cambiamenti nel format che sono sicuro apprezzerete. Rinizieremo i vlog parlando della teoria della terra piatta, quindi il video di oggi diventa in qualche modo un'introduzione. Qui non parleremo di terra piatta chiaramente, ma di alcune curiosità sul nostro pianeta come lo conosciamo tradizionalmente che sono sicuro vi sorprenderanno. Alla fine del video sarò felice di sapere quante di queste curiosità conoscevate e quante invece sono state in grado di sorprendervi. Ecco quindi 35 curiosità sul pianeta Terra che ti lasceranno a bocca aperta. La Terra si formò 4.700 milioni di anni fa. Se la storia della Terra si fosse svolta in un lasso di 24 ore, la vita sarebbe apparsa alle 4 del mattino, le piante alle 10.24 della sera, l'estinzione dei dinosauri sarebbe avvenuta alle 11.41 e l'essere umano sarebbe apparso alle 11.58 e 43 secondi della notte. Il centro della Terra è ubicato a circa 6.000 km al di sotto della superficie terrestre. L'uomo fu in grado di raggiungere solo i 12 chilometri di profondità circa. La temperatura della Terra aumenta di circa 20 gradi per ogni chilometro che si scenda al suo interno. Quindi si crede che al centro della Terra si raggiunga una temperatura di più di 3.800 gradi centigradi. Se raccogliessimo con un cucchiaio una porzione di terra e la esaminassimo con il microscopio, ci troveremo un numero maggiore di organismi vivi, superiore al totale delle persone che vivono in tutto il pianeta. Gli oceani ricoprono il 71% della superficie della Terra, tuttavia occupano solo il 0,4% del volume della stessa. Il 20% dell'ossigeno di tutto il pianeta è prodotto dalla foresta amazzonica. Un terzo della superficie della Terra è totalmente o parzialmente costituita da deserto. Studi scientifici sono arrivati alla conclusione che più di tre quarti della superficie terrestre sia di origine vulcanica. Vale a dire che sia prodotto di un'eruzione vulcanica o di rocce fuse che dapprima si raffreddarono sotto la crosta terrestre e poi emersero in superficie in un secondo momento. La Terra è l'unico luogo del sistema solare dove l'acqua si può trovare allo stato liquido, solido e gassoso. Le formiche hanno colonizzato quasi tutta la Terra, ad eccezione dell'Antartide ed alcune isole remote sparse negli oceani. Alcune zone del Canada hanno una gravità minore rispetto a quella che si incontra nel resto del pianeta. Questo fenomeno è stato scoperto negli anni Sessanta. Nel mondo vengono rilevati circa 500.000 terremoti all'anno. Solo 100.000 di essi vengono avvertiti e solo 100 di essi provocano danni. Ogni giorno da 10 a 20 vulcani eruttano in qualche zona del pianeta. Gli arcobaleni sono in realtà circolari. Non siamo in grado di vedere il circolo intero perché l'orizzonte della Terra ci nasconde la sua parte inferiore. La gran barriera corallina in Australia è la struttura vivente più grande al mondo. L'essere vivo più grande del mondo non è né un animale né una pianta. Si tratta di un fungo, della specie armillaria, che vive sotto le montagne dell'Oregon, occupando circa 9.650.000 metri quadrati. Negli oceani vivono più di un milione di specie differenti. Per il momento ne conosciamo circa un terzo. Il luogo più freddo della Terra è una zona specifica in Antartide dove le temperature possono scendere a meno 133 gradi centigradi. La cordigliera più lunga del mondo si trova nelle profondità dell'Oceano Atlantico ed è lunga circa 65.000 km. Si eleva in media a 5,5 km al di sopra del fondo dell'oceano. Il mare più salato del mondo è il Mar Rosso. Il centro della Terra è più caldo che la superficie del Sole. L'oceano Pacifico ha un'estensione maggiore rispetto a quella della somma di tutti i continenti. La Terra non è perfettamente rotonda. Infatti viene definita un geoide, un po' come l'immagine che state vedendo in questo momento. Fino a questo momento si conoscono circa 4.000 tipi di minerali differenti, anche se solo 200 di essi sono di importanza capitale. Ogni anno vengono scoperti da 50 a 100 minerali nuovi. Il Sole invia ogni giorno sulla Terra l'energia sufficiente a far muovere una macchina più di un trilione di anni consecutivi. Si stima che negli oceani ci siano più di 1.400 milioni di chilometri cubici d'acqua. In Amazzonia vive circa un terzo delle specie animali esistenti sul pianeta. I venti più forti del mondo soffiano sulle coste dell'Antartide e raggiungono la velocità di 300 km orari. La Luna non è sempre stata la stessa distanza dalla Terra. In effetti si allontana dal nostro pianeta una media di 4 cm all'anno. Ogni tot anni viene aggiunto un secondo al tempo che ci mette la Terra a fare un giro completo su se stessa. Questo fa presupporre che milioni di anni fa un giorno durasse circa 20 ore e tra milioni di anni potrebbe durare più di 27 ore. Nelle profondità della superficie terrestre c'è un deposito d'acqua tre volte maggiore del volume di tutti gli oceani del pianeta. Alcuni studi hanno dimostrato che ogni anno cadono sulla Terra più di 30.000 tonnellate di polvere cosmica. La maggior parte di questo materiale proviene dalla fascia di asteroidi situata tra Marte e Giove. Gli esseri umani hanno esplorato solo un 5% degli oceani il che significa che il 95% dei nostri mari sono ancora un mistero. E per ultimo se ci fosse un tunnel che attraversasse la Terra dal polo Nord al polo Sud e una persona ci saltasse dentro del mondo ci metterebbe all'incirca 42 minuti per spuntare all'altro lato. Allora cosa ne pensi di queste curiosità sulla Terra? Le conoscevi tutte oppure ce n'è stata qualcuna che ti ha sorpreso? Fammelo sapere in un commento. Prima di lasciarti ti ricordo che da oggi puoi seguire l'Inspiegabile anche su un blog dove troverai i testi completi dei video che carico, tutte le novità in merito al canale, anticipazioni, contest e video esclusivi. Cerca il link nella descrizione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.